Da consigliere comunale pretenderò risposte scritte rispetto alle mie interrogazioni e quindi sto monitorando un po' la città nei vari quartieri andando appunto a raccogliere quegli input che mi partono dai cittadini. Ci troviamo al quartiere Paolo VI in viale del turismo, vedete è un'arteria molto ampia, molto trafficata, guardate la condizione penosa, pietosa del manto stradale, guardate sembra un percorso di guerra, sembra che abbia subito dei bombardamenti, rappezzi su rappezzi rappezzi su rappezzi, asfalto, qui proprio sembra quasi una gruviera, una gruviera nei cui buchi, sui cui buchi è stato appunto messo l'asfalto. Un puzzle vero e proprio. Questo perché Melucci, il sindaco riconfermato, diceva di aver seminato la rinascita, lo dice ancora e però ha anche aggiunto il meglio deve ancora venire. Quindi evidentemente si è reso conto di come è stata molto carente la sua attività, la sua azione amministrativa e dice che ci saranno miglioramenti. Beh, se il buongiorno si vede dal mattino è proprio notte, ma io questi miglioramenti non li chiedo, li voglio, li pretendo perché Paolo VI è un quartiere, i cui abitanti non devono essere trattati da cittadini di serie B, non devono rappresentare la periferia delle periferie, è assurda una situazione del genere, è assurda, guardatela, guardate, basta camminare e si assiste a questo scempio. Le macchine sobbalzano, gli ammortizzatori saltano e anche le schiene delle persone saltano insieme agli ammortizzatori. Ma il caso di Viale del Turismo è, come dire, esemplificativo di uno stato di abbandono e di decozione in cui versano le strade, le vie di Paolo VI. Il quadro purtroppo è lo stesso anche in queste vie. Via Pietronenni dalla parte interna, Viale Salvemini, tutta Via De Gasperi, Viale del Lavoro, Via Miglioli, Via Sommovigo, Corso Buozzi e, come dire, chi più ne ha più ne metta. Bene, verificherò se nel piano delle opere pubbliche è previsto qualcosa per Viale del Turismo. Sono sempre a disposizione dei cittadini, oggi a Paolo VI e domani, laddove voi lo vorrete, basta segnalarmelo, il mio numero è già indicato, 339-240-4-240. 4200 voti personali meritano il mio massimo impegno che giorno per giorno credo che già sto offrendo alla collettività.